Sono Giordano Mopinetto e all'epoca dei fatti in questione avevo 11 anni, quindi andavo alle medie, frequentavo l'Augusto Guido e di quel periodo ho alcuni ricordi visivi e poi alcune emozioni ancora che dissociano forse dai racconti di coloro che avevano vissuto forse più sulla loro pelle in quanto più anziani perché in assoluto ho questo ricordo in famiglia dovuto anche, c'è una piccola premessa, al fatto che dunque io abitavo in Villapiana e nella mia via c'erano un esponente della CGL e poi c'era mio nonno l'anarchico e che quindi la situazione familiare era ovviamente di grande preoccupazione perché il sentore che queste bombe fossero ovviamente atti terroristici ma di un colore politico ben chiaro, ben definito creava ancora di più situazioni di ansia e tenendo presente che poi vabbè sempre nella questione temporale giusto 5 anni prima con il 69 con le bombe di Piazza Fontana avevamo già comunque vissuto in famiglia in quel senso ho questa serie di ricordi per tali motivi di comunque altrettanto situazione particolarmente difficile da gestire, quindi erano anni tra tutti, lo sono stati in effetti quegli anni 70 particolari la prima volta che tutto sommato Savona veniva comunque colpita, colpita così duramente. Il mio nonno di cui vi stavo parlando appunto Umberto Marzocchi era esponente del movimento anarchico italiano e ancora nonostante lui avesse già 74 anni ma comunque finora si può dire alla morte ha portato avanti quella che era la sua battaglia, quella che era la sua fede politica e ancora in quel periodo me lo ricordo che andava a fare convegno in tutta Italia e di lì a poco veniva arrestato nel 77 se non sbaglio la data in Spagna perché ovviamente lui avendo fatto la rivoluzione spagnola l'essere scappato poi purtroppo dalla Spagna con la salita al potere di Franco per lui è sempre stato un grandissimo dolore e finalmente alla morte di Franco era riuscito a rientrare in Spagna e avevano organizzato questo convegno che comunque non era stato, ovviamente non era legalizzato diciamo così e quindi gli abbiamo messo in galera all'età di 77 anni perché secondo la legge spagnola non avrebbero potuto fare il convegno stesso. Tornando a quel periodo appunto questo ricordo sicuro uno dei più vivi sicuramente di quando le famiglie del quartiere, i padri hanno iniziato a organizzarsi per le famose ronde, per organizzare appunto le famose ronde di quartiere e la prima cosa che mi ricordo è l'acquisto di questo walkie talkie, una serie di walkie talkie con i quali potevano comunicare da una zona all'altra perché solitamente uscivano in quattro separandosi quindi andando poi in giro a coppie e io ho vissuto appunto questa cosa quindi all'età di 11 anni come una cosa avventurosa, cioè fantastica, bella, da eroi senza quindi venire toccato al limite dall'altra parte, quello che dicevo all'inizio, della prensione, della paura per me era tutto una cosa fantastica, vedere uscire queste persone, questi anziani, di età diversa ma comunque con il fascino appunto della, forse anche sbagliando non lo so, della lotta comunque c'era anche la parte organizzativa che sicuramente era altrettanto affascinante però poi come un guerriero che va a lottare e a difendere il territorio e mio padre mi ricordo che allora lavorava, cioè sul lavoro, lavorava al mercato ortofrutticolo e quindi prima di andare a lavorare, lui dovendoci andare, di solito usciva di casa verso le 3 del mattino magari capitava spesso che uscisse di casa alle 2 per andare a fare la ronda e poi andare a lavorare e mi diceva proprio in questi giorni che si ricorda in particolar modo che essendo mio zio invece responsabile a San Paolo degli operai San Paolo nel quale c'erano ancora le caldaie quindi lui si occupava appunto di tutta questa cosa e che per più di una volta erano dovuti poi andare a fare anche le ronde appunto a vigilare quello che era la struttura del San Paolo e un'altra cosa, ecco in quello ricordo visivo casa appunto dei miei, aveva questa apertura davanti che dava praticamente sulla Madonna degli Angeli e ho ancora ricordo di quando esplosa la bomba Madonna degli Angeli di questa fiammata, l'umore sì, più che altro proprio ho questo ricordo di questa luce questo fuoco insomma di quello che era successo e ammetto anche in tal senso non ho compreso ovviamente la gravità forse la volta che più sono stato colpito è anche perché in quel caso avevamo anche una parente che abitava proprio lì vicino la bomba di via Giacchero forse anche perché la prima posta in un portone di un palazzo quindi era ancora più toccante per la gravità e poi appunto c'era anche questa parente che quindi insomma c'era l'ansia che potesse essere successo qualcosa per certi versi vista la vita di mio nonno è sempre stato abituato dall'età di 15 anni ad allora ad avere situazioni pericolose, avventurose, pericolose e via dicendo quindi la prensione appunto sicuramente c'era non l'ho vissuta però neanche all'interno della famiglia tutto sommato in tal senso forse perché comunque i miei genitori avevano vissuto la guerra mio nonno nei tutti i suoi vari passaggi da una nazione all'altra e tutte le volte che è stato ricercato dalla polizia via dicendo erano tutte cose già vissute in tal senso forse vissute quindi ancora diversamente che non da la famiglia che si ritrovava per la prima volta in situazioni di questo tipo io devo dire l'ho vista un clima diciamo chiamiamola di serenità di tranquillità c'era la rabbia questo sì per quello che stava accadendo e ripeto con certa convinzione che fossero un bel punto di destra quindi non che se fossero stati va bene di sinistra poteva avere un altro valore in tal senso però una città antifascista combattuto tutta la vita contro certi ideali maggior ragione scatenava sicuramente rabbia sì paura non me la ricordo quello che ovviamente è saltato subito l'occhio la solidarietà perché anche appunto nei riguardi di mio nonno e anche di quest'altra persona appunto esponente della CGL c'è stato proprio un riunirsi intorno a loro e far presente che tutto il quartiere partecipava eventualmente proteggendoli anche perché se fosse successo ad altri sarebbe stato meno grave però sapendo quanto loro fossero impegnati politicamente c'è stata questo sì una sorta di protezione ulteriore a loro e quindi questo segno evidente di quello che era allora la città ma direi più o meno come funzionava il mondo questo senso forte di comune, di solidarietà, di unione questo sì a prescindere poi appunto da eventuali idee politiche diverse ma diciamo all'interno dell'arco parlamentare del chiamiamolo centro-sinistra sicuramente c'era questa forte senso di unione nonostante mio nonno ecco anarchico potesse essere magari visto come la bestia nera nel quartiere al limite però no devo dire in questo assolutamente sia stato inverno a prescindere dalla stagione l'inverno dopo i compiti prima di dovere poi il piacere ma praticamente è stato il luogo più vissuto della mia infanzia, adolescenza e via dicendo e ho ancora delle immagini anche in questo senso della strada la mia via in cui abitavamo a parte il fatto che eravamo anche in tanti più o meno coetanei e quindi ci si trovava in tanti nel cortile o meglio nella strada perché poi è una strada particolare sì ci sono due cortiletti ma poi è una lunga salita dove macchine parcheggiate forse ce ne erano 6-7 quindi tutta a nostra disposizione e c'era un periodo dell'anno non so perché in cui si tiravano fuori le cerbottane e le frecce e c'era l'asfalto ricoperto di frecce cioè proprio era bellissimo come immagini questo sì in assoluto poi vabbè sì le parete di calcio, di biglie, di figurine, di soldatito di tutto quello che c'era da giocare assolutamente in quel periodo ma non in casa ma forse neanche quando pioveva perché capitava sì ma poi c'era una situazione quasi di ipotico dove potevamo stare quindi protetti anche eventualmente dalla pioggia ma non in casa era una città viva era una città vissuta in maniera diversa ma comunque insomma si sapeva che non c'era quartiere in cui non c'era una situazione quella era la normalità forse Villapiana anche di più non lo so quartiere operaio dove magari c'era comunque anche tutto sommato dietro casa avevamo ancora le fasce il terreno perché la Rusca non era ancora stata costruita quindi avevamo anche a disposizione tutta una sorta di spazio veramente nella natura dove ogni tanto capitava di andare mi ricordo ancora che avevamo trovato una casa disabitata dove avevamo quindi riuscire a entrare e era diventato un po' il nostro fortino e anche lì una cosa assurda mi ricordo sempre non so perché al primo piano di questa casa aveva ma centinaia e centinaia e centinaia di settimane animistiche praticamente nuove si vede che o era la casa di un emicolante e che aveva poi lasciato lì ma non so perché solo settimane animistiche tutte tutte nuove tutte da fare, da scrivere viva era una città viva veramente vissuta nelle varie fasce d'età ma anche lo dire perché non solo per noi ragazzini o quelli un po' più grandi proprio era una città in cui c'era uno scambio di idee dove non c'era una zona che si poteva percepire non vissuta poi ci mancherebbe le difficoltà tra quartiere e quartiere di vario tipo c'era anche, ne so Celeberi ma era la piazzale Moroni perché va bene si diceva frequentata dagli scappestrati di allora di Savona e quindi sull'ente succedevano magari anche cose spiacevoli però nonostante ci si scazzottava anche perché poi ci si scazzottava anche però nel bene e nel male era una città ripeto in cui c'era socializzazione in cui comunque c'era il confronto in cui assolutamente c'era questo senso di voglia di comunque di esserci di vivere e anche di divertirsi e di stare per strada noi abbiamo iniziato ovviamente si cresce a sparire dalla strada intorno ai primi anni no diciamo primi anni 80 primi anni 80 quindi appunto mediamente avevamo una ventina d'anni quindi in effetti però anche quelli più giovani hanno iniziato a non essere più nel cortile in effetti sono contento di essere nato allora rispetto ai bambini di adesso perché so quello che non stanno vivendo e mi dispiace che non riescono a viverlo io abito tutt'ora in Villa Piana devo dire che comunque sotto casa c'è una situazione abbastanza viva tutto sommato però la cosa che mi salta subito all'occhio è che non ci sono solo i bambini che per certi versi potrebbe essere bello il fatto che ci siano i genitori e i bambini però appunto ci sono i genitori che è un segno distintivo del fatto che c'è paura cioè allora si andava in strada dai 5 a quando si cresceva da soli e i genitori non sapevano manco dove cioè nel senso che c'era quel senso comunque di tranquillità perché se non c'era andare all'occhio mia madre c'era l'occhio dell'altra madre cioè quindi anche in quello c'era un senso di appartenenza una questione comune adesso da me sotto casa ci sono sì tanti bambini ma ci sono quasi più genitori che ci mancherebbe chiacchiano è bello come contesto c'è sicuramente scambio però lo vedo sempre come senso di timore che possa succedere qualcosa non come senso di solo di condivisione di spazi la mia visione poi magari sbagliata perché la cosa proprio che più mi farà differenza pensando a mio figlio è che forse la vivrei anch'io così cioè non sono assolutamente come cioè non è più come per quello che può essere stato per i miei genitori forse non mi senterei nemmeno io di dire ma scende si di restare e vate a divertire ed è quindi qualcosa che ha segnato anche me nonostante abbia avuto un certo tipo di equazione e quindi forse l'errore sta proprio forse anche in noi a non essere stati capaci a dare quella possibilità di gioco diversa da quella che è adesso allora trasmettendo quelle cose forse e esserci un po' adagiati e essersi sentiti subito sconfitti rispetto alla tecnologia perché poi è quella la battaglia e quindi accettare che i propri figli siano chiusi in casa attaccati al computer ai videogiochi o che altro quindi non do responsabilità a loro pertanto che poi il vivere comune è quello e quindi i confronti avvengono a scuola tra di loro e si sentirebbero magari si sentirebbe tagliato fuori a essere l'unico ancora a giocare a nascondino poi con chi non lo so perché appunto cioè non ci sarebbe forse nessuno a cercarlo quindi c'è sempre un po' quello dei rischi se succedesse oggi ciò che appunto abbiamo vissuto in quegli anni in quell'anno io temo che non ci sarebbe la stessa risposta e lo vedo o perlomeno da quello che sta capitando non credo ci sarebbe la stessa risposta perché siamo sempre più soli o perlomeno ci sentiamo sempre più soli a fare un certo tipo di battaglia e non lo so non vedo più quella risposta non so se ci sarebbe la stessa maniera della ronda di quartiere magari sì ci sarebbe la manifestazione questo sì ma poi quando si tratta non lo so non voglio essere pessimista non voglio essere però non credo che sarebbe la stessa no non avevo fantasia avevo certezze cioè ripeto sa perché ero in quel tipo di famiglia quindi c'era la discussione c'era il chiedersi però sentire tutta la famiglia quindi compreso me ma non credo perché indotto ma perché poi ci ragioni sopra sulle cose nonostante avessi solo 11 anni tutto sommato era comunque la certezza che fossero poi anche derivate da quello che appunto era successo a Piazza Fontana di quelli di la strage delle vari stragi poi anche successive ma tutto quello che c'è stato anche l'intermedio che comunque ci fosse la tensione ma creata apposta e che comunque avesse una matrice quindi non era una fantasia per me non lo erano per noi non lo erano Savona non è mai stata città tanto che sì forte la componente di sinistra però poi non abbiamo mai vissuto appunto gli scontri che potevano esserci ovviamente nelle grandi città quindi si sapeva che c'era ovviamente persone anche di destra però poi non c'erano lotte per strada non c'erano scontri per strada c'erano scontri sì tra compagnie diverse tra bande diverse ma non certo per motivi politici ma per tutt'altri motivi e te dicevo in classe con me c'erano tre ragazzi di estrema destra cioè comunque di famiglie che avevano fatto repubblichini che comunque arrivavano da lì ed erano convinti dei loro reali e usciva fuori la discussione appunto alla litigata ma nulla poi di più cioè è per quello che dico la prima volta in fondo che Savona vive da protagonista una situazione di questo tipo cioè in cui realmente si è sentito quel vivere degli anni 70 perché sennò erano tutte notizie che arrivavano dalle altre città non da Savona ecco assolutamente che si è sentito Grazie a tutti.